che almeno si arriva qualcuno, tre piani questa, qua c'è uno zaino, due zaini, una testa, la padella signori abbiamo la padella arrivano, arriva qualcuno, non mi sento di escludo gentilmente, io vi affaccio un attimo, non vedo movimenti, altro qua sicuro, c'è il secondo piano, si, sono affianca a te, abbastanza affianca a te, vado al terzo la maglietta rossa è bella, ma non so se conviene vestire di rosso, mi dico che sei meglio venata, ah al terzo piano c'è il tetto immagino, al terzo piano c'è il tetto si, allora buttevo un occhio, le altre cale stanno, eccolo l'uno, eccolo l'uno della casa di fronte, dove? è entrato nella casa marrone col tetto spiovente di fronte proprio, eh non posso mirare, è troppo lontano, non è che, no io c'ho, questa qua di fronte proprio vedi quella casa grossa col tetto rosso c'è quella casupola ecco lo vedete cammina cammina capito viene a chiudere la porta l'annaccio la porta benutile che siamo proprio tanto ecco lo che scappa di laos tronzo sta scappando dal vetro vedo meglio data dietro la porta mangiare pure colpito eccolo di nuovo sei tu? ah ti vieno qua dove sta? è dietro la casa rossa questa qua ha due piani con la porta aperta dici? con la porta chiusa? con la porta chiusa la bianca no è però la porta dell'altro lato aperta eh comunque è stata dietro in realtà stava fuori stava dietro al muro fuori qui non sono due diverse però guardiamoci alle spalle qua anche se ti sarà infatti sto guardando dietro sto guardando no beh chiudiamo questa che se senti la porta che si apre penso che ho la pistola eh vabbè oh eh ah cazzo ma ha preso ma c'era un uzi ha preso ha preso pure te no? andiamo da qua dentro andiamo eh mi do un bigliettino pure aspetta devo assorbire dei penkiller non andata solo minchia per quanto mi ha mancato questo vabbè c'è capito devo mettermi a rifare vedi quando ci mette a pigliarsi i penkiller però ah no questi verranno a pigliarci ah i penkiller mi hanno curato un cazzo a che servo? scusami cristo eh si sa cristo m'ho ucciso t'ha preso? madonna m'ha stroncato con a eh si vede che c'è il mirino pure lui sta curando eh aia dobbiamo andare là che c'è piaciare perché io te non scende ma è benderlo non è che ti avanzo la bender non è che possiamo sfondare una finestra no? no ahahah però sarebbe bello quando che tanta tensione arrozoc 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 e la cosa si sono fatte subito serie però cazzo ho colpito un paio colpito due volte forse ho capito due volte cioè due tizi diversi probabilmente controlla la mappa che punto stiamo la mappa no stiamo bene no è decisamente bene ma c'è quello che non è morto si cade se c'è tempo attraverso che passi però guarda bene io sto guardando la collina tu guarda il lato verso il basso ok c'è una macchina questo non ci hanno visto eccoli si stiamo sedendo su che vedi avrei visto avrei passato abbiamo visto Sto spuntando al FUILUS Io guardo dall'altra parte Sto spuntando al FUILUS Ecco, questo ti vede! Ma ti è passato un centimetro da davvero? E' andato esattamente dove volevo andare io, per cui io cambierei rapidamente Voglio provare a andare a quel centro commerciale gigante lì A sinistra sì A est, a 120 per essere ucciso Ah, stai 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 Ah, stai 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 L'altro poco mi schiacciava ma non puoi Si, ti è passata fatta la barba? Vabbè E' un automobilista barbiere No, non sono automobilista barbiere Qua siamo scopertissimi però, porca matta Eh, lo so Eh, qua non ci sono coperture qua Ahia Vabbè, sparano esattamente dalla direzione che è andato Quello sono andati quelli con la macchina Qua siamo più dentro Qua siamo più dentro Qua siamo più dentro Aspetta Sto posto non lo conosco, non l'ho mai visto C'è dei palloncini Ma che figata Vabbè, le palloncine a una finestra Quattro Che successe? Strarre, Tony Averto, ti sei avuto, tu io mentre Averto di là? Averto di là? E' in parte Cioè, nei posti militari E' più facile che trovi le armi C'è più roba C'è più roba Ok Però, di preciso non sai mai cosa trovare Mi pare che ci siano invece dei Degli spawn più o meno fissi per alcuni veicoli Ok C'è uno qua L'ho visto Guarda, finiscilo Eh, mannaggia la puttana, non c'è niente No No Come sono morto E' un ciss Ma vaffa Eh, vabbè, eh, eh Tu sei già dentro Pazzo Non capirò mai come si faccia a scendere prima Con il paracatore Oh, cazzo, ne sta arrivando uno Dove stiamo noi? Sì Dove? Eh, al risparlando, gira Ah, l'ho visto il capannone lì Devo provare a entrare Ah, ma è proprio qua Dove vai, Ciccio? Dove vai? Ah, 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 sta venendo da me questo Mi vuole a me Ah, entro in una casa, cazzo E io scappo di qua Nella casa voltitto marrone qua Mi riesco, se faccio in tempo Sì, perfetto Grazie per questo Utilissime colpi per la balestra No, c'è uno qua Ci siamo pieno dai cazzotti Bro, scappa, scappa Ma è il secondo piano, l'avevo visto C'è un cazzo in queste case, maverizia Eh Ah, ah, ah Beh morirò, moriremo subito È stato bello Finchè non è durato Oh, ma accorta che là mi va l'entrata Pesò l'accento, ho preso Ah, ah, ah Chi sta sparando a chi? Ma sei entrato da sotto tu qua? No, sono al secondo piano Ma, da dove sei entrato? Da sotto? Ho girato una molotov dentro, c'è un tizio a piano di sotto, bomba! E io sto a piano di sotto. E' rimasto proprio... Nel stesso palazzo ti cade a questo tipo di coglia. Eh, lo so, ma... c'è niente. Non c'è niente, quello è il bello. Per cui siamo tutti disarmati e corriamo come dei minchioni in giro per la mappa. Io quell'arma ce l'ho. E ammazza qualcuno allora, non stare lì. Eh no, c'ho il falcetto, non è che c'ho l'arma. Ok. Ora c'ho l'arma. Adesso vai, vai, adesso... Killing spree. Salve! Mi piace che gente che non vuole combattere, cazzo, scappano qui. Dove me ne va l'acqua, eh? Non è uno. Bomba, bomba, c'è una che mi sta in piedi. Nooo! Eh beh, sono morto pure. Ma che palle, sono morto! Non sono tesso. Eh ma sono morto pure, che c'ho già fatto? Cos'è quello? E' l'unico che ha trovato un'arma! Ravamo 4 minchioni! Che g... Ma lei c'aveva il mito rispetto a te. Tu che c'avevi? La pistoletta. Eh sì, questa è così. Questi sono quelle partite. Ma da shotgun! Ma vaffanculo! Aia! Sono morto! Ahahahah! Ho fatto io un colpo! Ho fatto pigliare! Ahahahah! C'è uno con lo shot che non piava di sopra, stava, mi ha aspettato e mi ha seccato con un colpo però. Ah sì, vede. Quindi mi viene che scappi dalla... Ho qui lo shot che non piava di sopra. Sì, infatti. Vabbè, aspetta che esce. Il tizio, magari. Si dà una porta e hai chiuso la porta. Perfetto. Sali sopra e alla fine... E' al balconcino sopra. Non ti mettere troppo alla finestra che ti piglia una volta da quell'angolo, eh. Esatto. Eccolo, lo vedo. Eh ma c'è un altro ancora dentro. Mi sa, eh. Sta arrivando nella mia casa. Ok. E allora, aspettala. Ma è a piano di sotto, eh? Sì, sì. Aspettala che esce e dagli una shot ganata in fronte. Eccola qua, è salita. Vai 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 cambia spalla, cambia! Bella! Ah fan... Finiscilo, oh! Ah, deve ricaricare. Ah, bella così. Mi sei piaciuto. Eeeh... Attenzione che lì non aveva detto che non ci fosse nessuno, eh. Non ho capito se era questa che è uscita da lì o se c'era qualcun'altro. per me che c'aveva una shotta era una shotta poi vado a questa casa orca troia ti guardi alle spalle salendo di là salendo di là salendo di là no davanti qua dietro murito 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 eh cazzo non riesco a sparare arriva la pistoletta qua tutti i 30 punti vediamo se viene da questa parte qua io che miedino c'ho sento passi o sei tu o sento dei passi no c'è uno qua fuori c'è uno qua fuori a a est proprio attenzione che potrebbe entrare da dietro qua da qua no mossa girandosi lo sento fortissimo eccolo ciao vediamo se c'è qualche amico le shotta che ando a quella distanza e mi spiace oh scusa mi è andato già il mio dito pesante sul mafo che c'ha il buono che c'è di buono c'è questa robina buona le bende le cose le lascio a te qui in sto pieno ehm riprendo giusto un po' di munizioni se c'è la 760 c'è il c'è un po' di tutto questo comunque c'è la scarella e sta cosa puoi fare sinceramente la spesa tutto il resto giusto qualche extended per la k no non c'è niente per la k come mirini e cazzi e mazza siamo fuori siamo fuori? siamo fuori dal sin... adesso si dobbiamo muoverci verso di qua e quindi morire male dobbiamo morire male un po' la verso i campi e la libertà verso i campi e la libertà si qualche verso sinistra davanti a noi davanti a noi sparano dici? guarda come è vicino il cerchio in realtà siamo molto molto vicini all'ingresso nell'area di sicurezza però adesso raggiungiamo una zona un po' più in alto anche se la stiamo facendo proprio perimetro perimetro senza entrare ok adesso ma ma c'è un tizio qua a terra no c'è un altro uno a terra ah coli a coli no ma facca l'ha fatto mannaggia sei ancora vivo? no nooo orca troia nooo se trattavo di sparare abbiamo fatto ci hanno fatto pure no io uno l'ho secchiato ma l'altro non l'avevo proprio visto maledizione no io l'ho visto ma non l'ho fatto il terreno no non l'avevo proprio visto mannaggia ho convinto che fosse vicino al compare suo e invece stava un po' più storto ha messo che fosse al compare suo probabilmente non era neanche al compare suo ma è però ottavo dai ottavo dai non è male 174 punti sto precipitando con la velocità assurda se no io ti morirò atterrando no io sono a questa casettina verde sono a due di distanza molto carina una casarella pittate rosa coppe da maldoli murri a te ne perfetto neanche un'arma manca a pagare oro manca una pistola in merda un sciparatracchi un uno sciparacuoppi qualcosa ho trovato un po' ma io manco quello ma il secondo piano mi regalerà una gioia una soffitta nella soffitta delle mie illusioni non c'è un cazzo perfetto è una casa proprio di sfigati questa era lì eh sì siamo messi dai esci fuori e scappa oh non male ma peggio sto cercando di di uscire vabbè dai eh oh iolo iolo qua c'è un sacco di gente c'è uno che sta scappando comunque forse io sono io qui dietro esci ti ritieni dalla parte mia c'è da questa parte qua vabbè ma non è ritorno un altro ok eh eh che scappa che stanno là davanti sto cercando di capire in che direzione viene andata al giallo ok dalla parte mia moderatamente sarebbe un fucile l'ho trovato sì sì l'ho visto l'ho visto l'ho visto però in un minuto vediamo se troviamo una macchia conviene muoverci ce ne sta uno qua dietro ma sta dietro la cosa dai scappa 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 vi do mi fa un c***o si scusami mi c'era uno fermo forse afk non lo so che fai non gli spari mi sono giunto a questa casa credo no perchè ti sei andato la Tony? eh non so perchè c'è sto palazzo l'ho girato storto aspetta che provo a venire dal vicolo qua ecco ma non sparavo dove dove? ce l'ho ce l'ho morto 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 l'ho ucciso grande e me l'azzardo un attimo eh me l'azzardo un lutto del volo e la stella rossa c'è qua ah no le munizioni non le ho prese un coglione dai che ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ce la possiamo fare dai però devi correre come un disgraziato eh vaffanculo metti dietro un muro dai dai esatto eh no mi sparano cazzo eh no eh sono morto vaffanculo dove? mannaggia la miseria eh no sono a terra tu a sopra stavi? si sto provando a strisciare dalle parti verso di te ma questo mi mi immagino che verrà a finirmi prima o po' ma vi posso manco curarmi adesso? si mi sparano aia la padella mi ha salvato nooo la padella mi aveva salvato di un colpo e vattene da lì ho provo a vendicarmi non lo so eh mannaggia mannaggia no eh io non lo vedo no ah 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 c'è più di uno eh ma tu sei proprio senza nulla non c'è manco manco zaino c'hai porca miseria è la chiesa quella in fondo la roba è si oh due due ah 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 la mia protezione, però 116 punti, dai! Ok, siamo ufficialmente dentro Macchina Macchina Ah, questa è cappuccata E' cappuccata Non mi ha visto Questo mestane, dove va addosso a me? E' sceso Morto Un attimo che mi devo curare, cazzo, un attimo Eh, lo so Però, se non mi bendo, ok Dove sta l'altro? Eh, dove stava l'altro? Non c'ho granato Fatto Bella Dammi un secondo che mi devo bendare qualsiasi cosa Non è che ti avanza un medikit Da qua! Vabbè, andiamo a saccheggiare questi morti Intanto che compaia l'altra area di... Giusto Allora, la rezone l'abbiamo scampata per adesso Intanto questi si stanno amm... Juke Nukem Si stanno ammazzando lì, lì sotto Si, decisamente lì sotto Vedo la macchina per sicurezza? Tragliamolo che magari ci vedono e... Eh, si Si Se devo ammonte, tu puoi... Montare oltre... Mi bevo un energy drink Faccio così Magari mi curro le ferite più in fretta Non è capito, si serve a che cosa, va Vito, Tony? Io sto... Sì? Stato a monte Guarda a valle Ah, ok, si Guardiamo più o meno i 360 gradi Sennò se guardiamo... Si, si Guardiamo dietro e... Stacchete! Beh, un giornato si No, ancora no Cosa? Quanto manca? Ah, si deve ancora finire di restringere il coso Che è stato? Io, il Domenico coglione è stato Ce l'hai di alle spalle, alle spalle, alle spalle Ah, con lo shot e non c'aveva Si, ma... Stavo vedendo l'inventario No, che sfiga Che demice, no, che sfiga Che demice Eh, vabbè, però si Dipende di quanto ci sei stato Eh, vabbè Ah, mannaggia Che testa di cazzo No, no, sto arporosicando Eh, si Mi sono sparito, ma dove? Dove? Come? Mi sono girato ed eri morto Oh, cazzo Stavo con l'M416 Lui con lo shotgun Ma sai quanto me lo facevo? Eh, siete che ti sei arrivato addosso Proprio Io l'ho colpito un paio di volte pure Ma, no, con lui con un solo colpo Ma mi ha steso Vabbè Dopo questa pessima figura ti saluto Eh, 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 dai Ci becchiamo stasera